ciao ragazzi bene allora ieri sera è finita questa iniziativa che ho fatto estate coi cani da guardia che era dedicata a tutte le persone che non sono andate in ferie a dire la verità la maggior parte dei miei clienti erano andati in ferie comunque qualcuno aderito e si è accaparrato un buon soggetto qualcuno 2 addirittura a dei prezzi veramente speciali qualcuno ha rinunciato e ha sbagliato perché c'erano alcune occasioni veramente importanti vere perché quando io faccio le promozioni siccome rispetto sempre le persone che mi seguono con così tanta costanza c'era veramente su alcuni cani da avere un risparmio importante e portarsi a casa dei bei cani qualcuno mi ha solo fatto perdere tempo ma quello lo immaginavo e già mi hanno scritto ho ricevuto dei messaggi che dicevano mi mandi tutti i soggetti che sono disponibili con tutti i prezzi ci sono persone con detto sì sì sono interessato gli ho mandato le foto mi mandi anche i filmati poi sono spariti nel nulla ma quello è un po ciò che ogni volta accade quando faccio queste promozioni una cosa però veramente strana e che proprio in questi 10 15 giorni che nonostante ci fossero le ferie ho avuto molti contatti e che ogni volta che ho modo di parlare con più persone emerge sempre da parte dei genitori delle famiglie questa paura che il cane da guardia possa essere pericoloso per i bambini della famiglia e guardate questa è veramente una situazione spiacevole che va avanti da tantissimi anni io tanti anni fa fondai la federazione italiana cani da guardia che oggi è diventata internazionale diventata la feder guard con proprio questo principale scopo quello di cercare di far capire alle persone cos'erano i cani da guardia ma specialmente cosa non erano i cani da guardia per colpa dei giornalisti tutte le volte che sono accaduti degli incidenti molte volte si sono chiamati cani non so cani da presa cani di varie discipline da difesa anche cani destinati a tutta una serie di impieghi cinofili sono chiamati cani da guardia se voi pensate che ancora oggi la maggior parte delle persone non riesce a di vita a distinguere un cane della difesa un cane da guardia ma specialmente ancora convinta che se un cane a carattere ovvero è in grado di difendere la famiglia in caso di necessità poi chissà per quale alchimia strana questo non lo sa spiegare nessuno ma per molti è una vera convinzione possa poi invece di difendere la famiglia dai delinquenti diventare lui un delinquente e mordere i familiari strana questa cosa perché dimostra proprio come passano gli anni io sono tanti anni che mi occupo di cani ma togliendo un po quelli che mi seguono alcuni che hanno fatto altri percorsi l'evoluzione in campo cinofilo è stata veramente bassa forse perché non si vuole che le persone si evolvano in cinofilia fanno molto più comodo gli acquirenti ignoranti quelli che ogni volta che nasce una nuova razza che magari è collegata a un film di romanzi tv dei libri o va a sapere allora cerchino in modo spasmodico quel cane senza rendersi conto che quel cane non è solo una razza non ha solo un'estetica ma una psicologia un modo di comportarsi che indipendentemente da quale a quale razza appartenga cambia sempre da soggetto a soggetto già il fatto di dire quella razza sono cani pericolosi quell'altra non sono pericolosi vabbè già questa è un'ediozia incredibile ma è veramente drammatico che dopo tanti anni si pensi ancora che il cane la guardia quello che senza essere proprio definito con nessuna razza particolare poi possa poi in realtà essere quel cane che quando meno te lo aspetti ti fa i disastri questo perché ma perché non esiste informazione istituzionale a noi le istituzioni danno informazioni solo quando ci vogliono orientare ci danno spesso delle informazioni distorte verso certe scelte che abbiamo visto adesso il vaccino piuttosto che farci consumare dei prodotti farci come dire adattare a certe condizioni creare delle tendenze allora istituzionalmente vengono date delle informazioni sui cani no anzi è talmente elevato il business che gira attorno alla cinofilia che direi che l'informazione che viene data istituzionalmente sempre lontanissima dalla realtà i cani possono sostituire i bambini cani sono componenti della famiglia che hanno gli stessi diritti cani devono dormire nel letto i cani devono insomma tutte queste cose che conosciamo già i cani se noi li vogliamo bene dobbiamo acquistare praticamente tutto ciò che c'è in questi supermercati dedicati agli animali se noi siamo i padroni modello allora dobbiamo per forza portare spesso durante l'anno un cane dal veterinario anche se sta bene perché ci siamo inventati le visite di controllo ci siamo inventati tutto ciò che in qualche modo il car praticamente i cani in qualche modo possono fare spendere i proprietari non passano mai queste informazioni che i cani sono animali come tutti gli altri hanno una logica ma specialmente sono cani che non è vero che sono loro che scelgono di vivere al nostro fianco siamo noi che scegliamo di tra virgolette impossessarcene e di decidere per il loro futuro guardate basterebbe fare una considerazione il vero cane da guardia e non sto parlando di razze ma di tipologie lo dice la parola stessa è quel cane che ha una selezione storica ultra millenaria che non hanno fatto le persone come me che vivono in una casa confortevole quindi da una determinata selezione non ha ricavati quelli che si possono adoperare lavorare per tenere lontani i ladri ma l'hanno fatta i pastori voi pensate che sono più di 12 mila anni che i pastori in qualche modo utilizzano si grazie lei acconsente a questo discorso sono più di 12 mila anni che i pastori utilizzano i cani da greggi i loro cani per poter difendere l'unico patrimonio che hanno ovvero le pecore i gregi di pecore oppure anche i malgari altri animali che possono essere attaccati dai predatori e li utilizzano da 12 mila anni intanto i loro bambini gli hanno cresciuti sempre i cani ho mai letto un articolo mai e poi mai che cane di un pastore sbrana il bambino e qualche motivo ci sarà ma non solo normalmente la selezione è stata fatta su cani che non devono manco sbraniare gli agnelli che tra l'altro non solo sono commestibili per il cane sono appetibili tante che poi quando muoiono loro di morte naturale o vengono magari uccisi per uso alimentare dei pastori i cani se ne mangiano volentieri i resti perché il nostro cane al di là che se ne dica è sempre stato e rimarrà sempre un carnivoro quindi cioè basterebbe far mente locale bisognerebbe solo che venissero date istituzionalmente alcune informazioni intanto i cani da guardia che non hanno nulla a che vedere con i cani da difesa che hanno nulla a che vedere con i cani da mondioringhi cani sportivi cani da ipo e niente sono cani che necessariamente devono venire dal mondo dell'agricoltura sono i più vecchi in assoluto poiché si siano poi creati successivamente dei molossi un sacco e si siano utilizzati dei cani nati per essere cani da presa per combattere con altri animali coi cani stessi nella storia eccetera che poi qualcuno abbia fatto la guardia qualcuno lo utilizzi per la guardia quello è fuori discussione l'ho detto mille volte qualsiasi cane può avere l'istinto della guardia ma quando noi parliamo di cani da guardia e nel mio caso si parla di pastori dell'asia centrale selezionati per la guardia e di tipologia aborigena questo è importantissimo cioè i veri cani che hanno nella genetica gli stessi che i pastori nei millenni hanno utilizzato per proteggere le loro pecole e le loro agnelli allevare insieme a loro la famiglia ma la pericolosità per i bambini è nulla quindi mi viene da pensare perché continua esserci questa disinformazione ma perché la cinofilia come tutti i settori diciamo pure commerciali e beh patisse la disonestà intellettuale di tutta una serie di professionisti di allevatori che allevano magari cani di razze riconosciute come guardia ma non sono mai riusciti a selezionare cane alla guardia gli viene bene dire no ma è meglio che il cane non faccia tanto la guardia perché sennò diventa poi anche pericoloso con i bambini che non so dove l'hanno sarebbe come dire il cane che protegge il gregge ed è veramente valido a tenere lontano i lupi che si fa uccidere magari dai lupi per proteggere poi si mangia anche facilmente lui tutte le pecore tutti gli agnelli quindi sono ovviamente assurdità a questo si aggiungono tante altre cose magari non tutti ma ogni tanto qualche veterinario che ha qualche intrallazzo con qualche allevatore allora dice no no quel razze lino perché sono pericolose coi bambini gliele indico io la razza oppure altri che avrebbero inventato i cani idoni per i bambini che poi si va a vedere poiché sono quelli acquistati sempre talmente tutte le condizioni certi che non creeranno problemi senza fare nessuna attenzione senza imparare niente per allevare che sono poi quelli che statisticamente se uno andasse a vedere nei registi dei pronti soccorsi hanno fatto più danni in assoluto quindi una cosa che mi sono meravigliato anche questa volta è di vedere come questo discorso antico assolutamente infondato e irreale continui a ronzare in mente ai genitori il cane da guardia forse o meno paura dei ladri che se vengono questi non hanno pietà che di certi cani da guardia perché secondo ciò che le persone pensano all'improvviso un cane a guardia cioè loro questi lince scorbe potrebbero accanirsi contro i bambini contro i nipoti contro altri questo è stato un po una cosa che mi ha meravigliato e del motivo che voluto farvi questo video oggi che sabato va bene vi ringrazio tanto per avermi ascoltato anche oggi seguitemi sempre vi auguro a tutti buona giornata a presto